Si rincorrono però voci di corridoio sempre più insistenti circa una possibile lite tra Luca Laurenti e Paolo Bonolis, i due conduttori, sono davvero giunti ad un punto di rottura Il sospetto si è insinuato tra i fan dopo l'intervista di Maurizio Costanzo, dove Bonolis è stato ospite Il web ha iniziato a mormorare sul perché il conduttore non abbia fatto menzione del suo collega ripercorrendo le tappe salienti della sua vita lavorativa e privata I due hanno davvero litigato. Le voci di una rottura professionale e personale tra i due, hanno iniziato a circolare sin dal 2015, ma in quell'occasione fu Sonia Bruganelli, moglie di Paolo, a rompere il silenzio e smentire tutti i rumors Andando a dare un'occhiata più approfondita sui social però si può notare, che in realtà dal profilo Instagram di Bonolis è stato condiviso arso uno scatto a davanti un altro assieme a Laurenti Basterà questa prova social per mettere a tacere tutte le male lingue e le indiscrezioni che continuano ad insinuare il dubbio di una lite in corso? Poto Credits Facebook